Qui si trattava di riattualizzare una perquisizione in relazione ad un altro, a quest'altro filone, per completezza. E noi chiediamo di verificare rapporti esistenti con Mussari e Giuseppe, perché era quello il legame più stretto che, devo dire, emergeva anche da fonti aperte. Corrispondenza pregressa e non, intrattenuta con l'indagato che era il Mussari, che noi indichiamo soltanto quello nel decreto. È una perquisizione presso terzi, non è mai stato iscritto, non c'era alcun elemento per iscriverlo. Davide Rossi fu perquisito, ma mai iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Siena, che stava cercando di far luce sulle operazioni Nomura e Santorini, concluse dalla Monte dei Paschi. Il magistrato Aldo Natalini, tra i primi a indagare sulla morte dell'ex capo comunicazione di Rocca Salimbeni, l'ho affermato davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul decesso di Rossi precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, in circostanze ancora non chiare. Nei giorni precedenti la Commissione parlamentare aveva udito anche l'ex presidente della Banca senese, Giuseppe Mussari, e il collega di Natalini, il PM Antonino Nastasi. L'accusa di essere magistrati indolenti mi ha ferito, non c'è stato ambito di Siena che non sia stato investigato da noi della Procura, ha aggiunto Natalini rispedendo al mittente le accuse di Pasquale Aieco. L'allora comandante provinciale dei Carabinieri aveva raccontato davanti alla Commissione di aver visto i PM presenti nell'ufficio di David Rossi dopo la sua morte e sedersi sulla sedia del dirigente, provare ad accendere il PC e addirittura rispondere al suo telefono. Oltretutto il cestino, contenente fazzoletti con tracce di sangue e bigliettini accartocciati con presunti messaggi d'addio di David Rossi, svuotato sulla scrivania. La finestra era aperta, l'ufficio era in perfetto ordine, credo che ci siamo stati una ventina di minuti, poi siamo scesi quando è arrivato il medico legale. Dunque a un certo punto, mentre stavamo lì dietro la scrivania, nessuno si è seduto nella sedia. Stavate dietro la scrivania? Siamo andati bene per vedere, per affacciarsi, bisognava andare dietro la scrivania. Lì poi entra la scientifica che poi chiude e poi si sigilla tutto e si va via. Quindi io mi rendo conto che questo tema è un tema, dopodiché... Lei non ricorda? No, no, no. Io ricordo questo discorso della telefonata, sicuramente non rispose il collega.